Sabato 23 settembre porte aperte all'Archivio di Stato in corso Giovecca 146 a Ferrara, un appuntamento che rientra in un appuntamento più europeo. Quali sono le opportunità e soprattutto che cosa si potrà scoprire durante quella giornata? Allora, l'Archivio di Stato aderisce come tutti gli anni alle giornate europee del patrimonio, le GEP. Sono giornate di apertura straordinaria di sabato e di domenica, di diurne o anche serali. in cui viene individuato un tema, ma si può anche aderire con iniziative al di fuori del tema, per valorizzare il patrimonio artistico, culturale, comunque all'interno del Ministero della Cultura. E noi, come Archivio di Stato, quest'anno abbiamo deciso di aprire le porte dell'Istituto alla cittadinanza, su prenotazione, per far sì che chiunque fosse interessato ad avere una visura catastale dell'immobile di proprietà, purché l'immobile si trovi all'interno delle mura ferraresi, potesse appunto prenotare un appuntamento e faremo una visura catastale, faremo praticamente la storia dal 1820 circa fino al 1940 del proprio immobile con i passaggi di proprietà che ha avuto, con le varie annotazioni relative alle compravendite, quindi agli atti notarili, alle volture e alla fine gli daremo anche una copia della particella catastale, della planimetria, dal catastro del 1877. Una giornata ovviamente che darà l'opportunità anche di scoprire la storia delle abitazioni ferraresi, quindi. Esatto, noi solitamente queste visure catastali vengono fatte, diciamo, o da tecnici, quindi da architetti, da ingegneri che hanno bisogno di informazioni per le loro pratiche edilizie, oppure da singoli appassionati o storici che fanno ricerche per motivazioni culturali e editoriali. Qui invitiamo la cittadinanza che fosse interessata ad andare sulla nostra pagina Facebook in cui troverà tutti i riferimenti. I posti a disposizione purtroppo sono rimasti pochi, però possono scriverci appunto all'indirizzo che troveranno lì e potranno, speriamo, scoprire cose nuove sulla loro abitazione. Intanto avranno un canovaccio della storia dei passaggi di proprietà che permetterà, quando riusciremo a far ritornare il patrimonio archivistico, che ora si trova non purtroppo a Ferrara, di avere anche di tornare a trovarci e quindi avere un motivo in più per tornare a trovarci nei prossimi, speriamo, mesi o anni, per avere anche copie di documenti notarili nei quali potrebbero esserci anche allegati cartografici, quindi planimetrie della loro abitazione e quindi avere informazioni che semmai loro non avrebbero mai potuto avere senza venirci a trovare in archivio di Stato. Grazie. 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 Grazie.